Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di aprile 2023. Grazie. Wow, abbiamo la temperanza amici dello Scorpione. Periodo probabilmente tranquillo, periodo di riequilibrio, di guarigione. Quando c'è la temperanza si parla sempre di un momento di pazienza dove ci si occupa di se stessi, ci si occupa di riportare in equilibrio quello che è la parte mentale con la parte emotiva. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link a un video che è una guida e vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023 e trovate anche il link al video che spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti al canale. Sempre nella descrizione trovate anche la mia e-mail nel caso vogliate contattarvi. Ragazzi, partiamo con un 6 di denari, un asso di denari, la carta del mondo, un 10 di spade, la torre, una regina di denari, una regina di coppe e il 6 di spade. Allora, devo dire che come la temperanza parla di equilibrio, anche il 6 di denari parla di equilibrio. Qui potrebbe essere un equilibrio da un punto di vista sia pratico, fisico, ma anche da un punto emotivo, perché comunque 6 di denari è una carta che parla di generosità e di qualcuno che dà fondamentalmente, ma è in equilibrio tra quello che dà all'esterno e quello che dà all'interno, quello che dà gli altri, quello che dà a se stesso. L'asso di denari è un inizio, è un seme che viene piantato per essere fecondato. Dopodiché abbiamo il mondo, che è come il raggiungimento di un compimento, di un risultato, o come la sensazione che abbiate abbiate questo obiettivo in testa, può essere anche il trasferirsi da qualcuno, però con questo 10 di spade, ragazzi, c'è qualche cosa, qualche tipo di sofferenza, qualche tipo di ciclo che bisogna chiudere. Notare che sono inizio ciclo, chiusura inizio ciclo, chiusura inizio ciclo, e poi abbiamo la torre, e queste carte le andiamo a vedere direttamente dopo con i mini tarocchi. Va bene, andiamo a spiegare carta per carta, perché l'inizio della lettura mi sembra piuttosto abbondante, piuttosto promettente. Andiamo a vedere questo 6 di denari, di che cosa parla? 9 di spade e imperatore. Sì, io credo che qui qualcuno stia uscendo da un periodo di preoccupazioni, come ci dice il 9 di spade. può essere grazie a una persona, o semplicemente alle vostre doti di organizzazione e pianificazione, ma è qualche cosa da un punto di vista materiale, cioè concreto. Andiamo a vedere questo asso di denari. 7 di pentacoli e re di coppe. Interessante perché è uscito re di coppe e regina di coppe. Ragazzi, qui ho la sensazione che, allora, se per qualcuno si tratta di cercare un figlio, l'asso di denari, 7 di pentacoli, la carta del mondo, mi dicono che la terza settimana di aprile, anche la quarta in realtà, potrebbe comunque essere molto feconda. La seconda parte di aprile in generale. Nel caso, invece, fosse una nuova relazione, ipotesi, con questo re di coppe, che potrebbe anche essere l'imperatore, appunto, è come se ci fosse qualche cosa che è stato iniziato, qualche cosa che ha messo le radici, si è iniziato a mettere le radici, e c'è bisogno di un tempo per far maturare questa relazione o questa situazione. Andiamo a vedere il mondo. Asso di bastone al contrario. E Papa al contrario. Allora, devo dire che ho come la sensazione che qualcuno abbia bisogno di essere riconosciuto. Ho l'idea che stiate aspettando un passo dall'esterno. Può essere di qualcuno o di un gruppo, cioè di una persona sola oppure di un gruppo, come se ci fosse il bisogno e la necessità di portare a galla magari questo nuovo inizio. Perché comunque c'è il Papa al contrario. Quindi potrebbe essere o una relazione clandestina, ragazzi. Potrebbe essere una relazione magari con una persona per qualcuno sposata. Tecnicamente quando c'è il Papa al contrario, perché il matrimonio è come fosse più separata o divorziata questa persona. Però questo asso di bastoni al contrario mi dice che siete un po' interdetti, non state facendo molto, non c'è un movimento. Potrebbe anche essere da parte dell'altra persona. Adesso poi ognuno lo applichi alla propria realtà. Però è come se ci fosse stata questa apertura verso metà aprile della situazione della relazione. Come se ci fosse stato uno scambio. E questo inizio con l'asso di denari, un inizio promettente direi, con grosse aspettative di espansione anche. Andiamo a vedere questo dieci di spade a che cosa fa riferimento. Regina di spade e sole al contrario. Allora, qui ragazzi, di nuovo, potrebbe essere una questione legata ai bambini o una questione legata al bambino interiore. È come se ci fosse qualche cosa, qualche ciclo, qualche tipo di sacrificio, di sofferenza che è necessario tagliare per riportare, diciamo, questo sole al dritto. Andiamo a vedere la torre, perché la torre qui, cioè normalmente la torre parla di un crollo dell'ego, del proprio ego. Andiamo a vedere la torre. I diamanti. E' una questione di amore proprio, ragazzi. E' otto di bastoni. Andatemi un'altra carta per diamanti. No, è una questione di coppia proprio. Se non fosse una questione di coppia, è una questione di amor proprio, perché gli amanti, come sapete, ogni carta ha diversi significati. Qui potrebbe essere lo scegliere, il prima e un dopo, o il fatto che certe sicurezze a livello di amore, a livello di stabilità relazionale, magari con questa persona, potrebbero veramente andare di corsa, perché ho questa sensazione che il cavaliere di spade un po' spinga, no? Come una sensazione, perché di solito la torre è una carta che parla del crollo delle certezze. Però qui è al contrario. E in realtà qui abbiamo carte di anime gemelle, perché abbiamo la carta degli amanti, abbiamo la carta del quattro di spade. Potrebbe, ragazzi, diciamo, potreste rendervi conto che non è necessario tagliare definitivamente qualcosa, ma è un po' come se vi dicessero di migliorare la comunicazione e di puntare verso la stabilità, verso questo equilibrio. C'è qualcosa con questo dieci di spade? Può essere, appunto, qualche cosa riferita al bambino interiore, qualche cosa riferita al vostro ruolo, al ruolo che state vivendo all'interno della situazione o della relazione. Potrebbe essere una madre, questa regina di spade, quindi a ruolo magari inerente a un genitore, perché comunque anche qui abbiamo un imperatore, quindi potrebbe essere un genitore. Andiamo a vedere questa regina di denari. Carro è due di spade al contrario, ragazzi. Carro indica movimento, indica il prendere una decisione. Io ho come la sensazione che qui qualcuno verso la fine di aprile inizia a prendere un certo tipo di direzione in questa situazione o in questa relazione. È come se le cose iniziassero un attimino a stabilizzarsi. E qui con il carro. Il carro, allora, se è vero che qui non si riesce, diciamo così, magari a creare una buona comunicazione o le certezze che si avevano prima, non si sa più se sono reali o no, se bisogna lasciarle indietro, se bisogna andare avanti. Quindi, insomma, è una carta un po' di rinnovamento, la carta della torre. Io trovo una carta di reset. E qui comunque due carte di scelta. Quindi può essere che qualcuno qui decida di... o spostarsi potrebbe essere il fare un viaggio, potrebbe essere il cambiare direzione all'interno della relazione. Se non avete nessuno, ragazzi, ho come l'idea... Perché anche qui ho una carta di viaggio, ho un sei di spade. Allora, se fosse del filone, relazione clandestina, qui è un po' come se le cose continuassero a essere... Sì, è in italiano. Le cose continuano a essere così come sono. E quindi è come se arrivasse a un certo punto, adesso poi andiamo a vedere la regina di Coppia, però è come poi se arrivasse ad un certo punto dove iniziasse a dire allora, di qui o di lì, cosa vuoi fare? Oppure, cosa voglio fare? Mi sta bene una relazione così? Mi basta quello che mi da questa persona? Se fosse del filone familiare, qui ho come la sensazione che ci sia la necessità di allontanarsi o da qualche credenza limitante, ragazzi, perché abbiamo comunque un sei di spade, o da qualche attitudine fortemente dovuta a una madre, perché abbiamo tre regine. Quindi, sì, comunque un qualche cosa a livello di ideologie familiari. Se fosse del filone bambini, ho come l'idea che per un periodo potrebbe essere sano allontanarsi dall'obiettivo. Sapete, quando c'è un obiettivo che si vuole con tutte le proprie forze, certe volte si mette troppa energia lì e questo obiettivo invece di avvicinarsi sembra allontanarsi. Quando è così è il momento di distogliere l'attenzione da quella cosa lì. Quindi è un po' come se vi dicessero occupati di qualche cosa di pratico, fai di qualche cosa che ti tenga occupata nella vita di tutti i giorni, muoviti, spostati, viaggia. non rimanere incastrato o incastrata nei dubbi. Andiamo a vedere la regina di coppe. Re di bastoni e due di pentacoli. Sì, ho come la sensazione che qui qualcuno sia un po' tra due fuochi, no? Vado di qui o vado di lì. E il due di pentacoli, ragazzi, parla sempre di cicli carmici. Probabilmente è quello che bisogna rompere. Un ciclo carmico, cioè una dinamica che si ripete continuamente da chissà quanto tempo. È ora di allontanarsi. La regina di coppe normalmente è una carta che esprime una forte empatia. Qualcuno che sente veramente tanto le emozioni e molte volte può essere destabilizzante. Quindi qui o vi dovete, diciamo, prendere uno spazio da quello che è il vostro campo emotivo per vedere le dinamiche come sono e quali sono le dinamiche che si ripetono, oppure può essere semplicemente una questione di, come vi dicevo prima, spostarvi da un punto di vista dell'ideologia familiare o che avete imparato durante l'infanzia. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 36, guardate che bel figliolo, Arcangel Raguel, Raguel, penso che sia tipo Arcangelo Rachele. Parla di giustizia, di armonia e di soluzioni. Giustizia. C'è la carta della bilancia, qui abbiamo la temperanza e qui abbiamo un 6 di denari, che è una carta che negli arcani tradizionali è rappresentato con una bilancia. qualcosa mi dice che le cose devono essere ricalibrate in questo periodo ed è un po' quello che farete qui, come se ci fosse una sorta di riflessione su quello che è necessario tagliare e quello che invece non serve più, insomma. E poi abbiamo Arcangelo Fanuel, che è la carta numero 20, e parla di speranza, ottimismo e nuovi inizi. In effetti qui abbiamo un bellissimo asso di denari. Ragazzi, l'ottimismo si dice essere il profumo della vita, no? La speranza. È un po' come se vi dice di mantenere un pensiero positivo, perché comunque non vi nego che tra la torre e il 10 di spade e questo 2 di spade qualche pensiero un po' pesante nella seconda parte del mese potrebbe esserci. Se siete comunque in coppia, ragazzi, vi devo dire che anche lì potrebbe essere utile un attimino, diciamo di stogliere l'attenzione, perché il 7 di denari vi dice che qui il seme è stato piantato. Adesso è solo questione di pazienza, avete la carta della temperanza, tenetevi occupati con altro, tenetevi, non lo so, distraetevi, cercate di fare magari dei viaggi, di spostarvi sia con la mente che con il fisico da quello che state cercando di manifestare fondamentalmente. Bene, amici dello scorpione, questo è quello che avevo per voi, io spero comunque che la lettura sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con una donazione, con l'abbonamento, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!